C'è un modo per capire se ci stanno facendo vedere delle foto finte? Esiste un sistema per determinare in maniera inequivocabile se quella che stiamo guardando è una fotografia vera, reale, oppure se è contraffatta? Questa è una domanda che mi sento fare sempre più spesso e per un ottimo motivo, vista tutta l'intelligenza artificiale che ci stanno propinando e tutte le cose finte che ci stanno propinando. Oggi vado a mostrarvi quali sono i metodi che utilizzo io per stabilire se un'immagine è veritiera oppure se è stata in qualche maniera alterata. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, sono un fotografo che fa video su YouTube. L'avrete già visto in qualcuno dei miei contenuti precedenti, soprattutto riguardo all'applicativo di Photoshop e io sono uno che manomette le immagini. A me capita spesso di inserire delle modifiche nelle immagini che di fatto le rendono non veritiere, perché mi capita magari di rendere una persona più attraente di quanto in realtà non sia. Mi capita molto spesso di rendere un luogo più bello, più accogliente di quanto in realtà non sia. Per cui io sono il primo che manomette le proprie immagini, sono il primo che modifica e manipola le fotografie prima di mandarle anche agli stessi clienti. Io cerco ovviamente di farlo nella maniera più onesta possibile, quindi per esempio non utilizzo tanta intelligenza artificiale, la utilizzo più che altro per scrivere. Non sto ancora utilizzando intelligenza artificiale per fare cose al posto mio, perché quelle cose lì cerco di farle in maniera artigianale, in maniera tale che rimangano più naturali possibile. Prima di cominciare però vi ricordo che se non siete ancora iscritti a questo canale vi conviene farlo subito, perché quelli che si iscriveranno adesso e attiveranno anche la campanella avranno l'80% di probabilità in più di riconoscere una foto vera da una foto finta. Faccio a questo punto una premessa che dal mio punto di vista è assolutamente doverosa. Nel momento in cui state guardando una fotografia sui social o in qualunque altro posto, una fotografia che è stata postata dalla Shura Pina, è probabile che quella foto sia stata toccata molto poco. Però al contrario, se state guardando una fotografia di un influencer, di un personaggio famoso, beh quella è quasi garantito che sia stata modificata. Quindi se state guardando dei corpi perfetti o dei prodotti o dei posti troppo belli per essere veri, andate sereni che molto probabilmente non lo sono. E non lo sono per un motivo ben preciso, perché quegli account, a differenza della Shura Pina che ha solo postato una foto, quegli account vi stanno vendendo quello che state guardando. E quindi vi stanno vendendo la perfezione del loro fisico, vi stanno vendendo la perfezione del paesaggio che vi fanno vedere, vi stanno vendendo qualcosa. Perfino io vi sto vendendo qualcosa, perché comunque sto cercando di fare dei contenuti dove ci sia una buona qualità di immagine e una buona qualità audio, quindi anch'io vi sto vendendo qualcosa. Però quello che vi sto vendendo io è manifesto, perché ve lo sto facendo vedere, e quindi più di così si muore. E in più non mi sono neanche messo la cipria oggi. Mentre in tutte le altre circostanze, ogni volta che guardiamo un'immagine che è stata postata da qualcuno che ha intenti palesemente commerciali, e ci metto dentro anche tutti gli influencer e tutti i creator, perché è così, quelle immagini sono quasi sempre modificate, perché tutto deve apparire più bello di come sia in realtà per farvelo comprare. Detto questo però, adesso ci spostiamo all'interno del mio computer, dove vi farò vedere ben due metodi per determinare se un'immagine sia stata manipolata oppure no, e quanto sia stata manipolata e anche dove. Il primo sito che vi presento è fotoforensics.com. Ora, ovviamente, andiamo a selezionare l'immagine che abbiamo scelto, quindi andiamo a fare scegli file, andremo a caricare una fotografia su questo sito e saremo in grado di esaminarla per cercare di capire se è stata modificata. Ovviamente la fotografia in questione è stata modificata e come, proprio dal sottoscritto, per cui sappiamo già che andremo a trovare degli artefatti. Molto bene, come potete vedere lo strumento si presenta così, quindi abbiamo una doppia versione dell'immagine, una versione normale, che però all'over del mouse si trasforma nella nostra analisi, che poi vediamo sotto. Su questa seconda immagine possiamo andare a cliccare per ingrandirla e qui riusciamo a vedere più nel dettaglio. Ed ecco qui, questo è il nostro risultato finale. Come potete vedere, questa è un'area dove sostanzialmente non ci sono modifiche, o comunque le modifiche sono molto poche. Qui si riesce per la verità a vedere qualche pennellata di timbro clone, che sicuramente avrò dato per eliminare qualche imperfezione qua e là, però grosso modo l'immagine rimane tutto sommato naturale. Dove invece si vede che ci sono degli interventi sono queste aree dove vedete che è pieno di artefatti e questi sono veramente molto molto evidenti. Vedete in questa zona, soprattutto questi pixel che sono completamente rovinati e sfarinati, ovviamente nell'immagine originale non si vedeva questa cosa. Si vede in questa analisi perché qui sta andando a rilevare proprio quelle che sono state le modifiche artificiali. Per cui vedete per esempio tutti questi puntini che vengono fuori sono chiaramente stati aggiunti. Così come anche quest'area dove era presente un po' di fumo e qui vedete che cominciano le fiamme e ovviamente dove ho fatto le modifiche maggiori vedete che c'è il numero maggiore di artefatti molto molto evidenti. Quindi è evidente da questa analisi che questa fotografia chiaramente è stata modificata. Ma ora andiamo a vedere il secondo strumento che è Forensical e in particolare la versione beta. Ora andiamo a fare Open File e facciamo esattamente la stessa cosa. Gli carichiamo la nostra immagine. Qui dovremmo vederla anche un pochino meglio. Ok eccola qui. Il primo strumento che andiamo a vedere è l'ingranditore e vedete che se noi andiamo sulla nostra immagine riusciamo a vedere una versione molto molto ingrandita e con anche una sorta di processazione che avviene sui colori in maniera tale che riusciamo a percepire molto chiaramente se l'immagine è stata alterata oppure no. Vedete nell'area della fronte si vedono abbastanza chiaramente un paio di pennellate di timbro clone o di pennello correttivo al volo mentre sui capelli è tutto naturale. La vedete la differenza ma soprattutto la differenza la vediamo quando usciamo. Vedete com'è naturale la fronte come sono piccoli i pixel e come non ci siano artefatti e guardate cosa succede appena usciamo dalla fronte e andiamo sullo sfondo. Vedete che qui è pieno di artefatti perché qui c'è e qui siamo passati sulla seconda immagine c'è un'immagine che è stata aggiunta che è quella delle fiamme. Stessa cosa vedete l'orecchio i capelli sono naturali vedete appena usciamo come diventa improvvisamente pieno di artefatti perché qui c'è un'aggiuntura e di nuovo torniamo su un'area dove ho aggiunto delle fiamme quindi di nuovo qui artefatti non ce n'è. Gli artefatti ci sono nel passaggio tra una zona e l'altra. Ovviamente abbiamo la stessa cosa sulle mani vedete questa qui è una mano a occhio nudo sulla fotografia originale non si vede niente ma esaminata con questo strumento vediamo molto chiaramente che io ho modificato i colori su questa mano per matcharla con i colori del fuoco e dei lapilli che provengono da sotto e qui di nuovo vedete dove sono state aggiunte delle fiamme che è pieno di artefatti assolutamente riconoscibili. Passiamo a vedere il prossimo strumento che è il clone detection quindi questo è uno strumento che probabilmente andrà a cercare di capire se sono stati clonati dei particolari di questa immagine quindi con timbro clone o strumento toppa o altri strumenti che vanno a fare un lavoro di questo tipo. Vedete è molto plausibile che lui ci abbia azzeccato è perfettamente credibile che io abbia clonato alcune parti di quest'immagine per eliminare dei segni che magari non volevo vedere. Sono pochi tutto sommato poteva andare peggio però sono abbastanza convinto che sia realistico quindi probabilmente queste sono delle aree in cui effettivamente ho clonato qualcosa. Vedete che questo strumento li becca. La prossima cosa che andiamo a vedere è il livello di errore, l'analisi del livello di errore. Ora vedete che qui abbiamo una cosa che somiglia molto al primo strumento che abbiamo visto. Vedete è molto molto simile. In questo caso riusciamo ad avere un ingrandimento e ci rendiamo conto che qui ovviamente sulle aree dove noi sappiamo benissimo che è stato fatto qualcosa vedete che gli artefatti sono di dimensioni molto molto maggiori. La fotografia sembra molto rovinata in questi punti. mentre in un'area più naturale i colori sono un pochettino più contenuti. Ovviamente non è uno strumento particolarmente affidabile in questo senso. Dobbiamo anche affidarci a quello che sappiamo di quest'immagine. Si vede molto meglio sui lapilli per esempio. Vedete questo si vede che è stato aggiunto perché abbiamo un'area abbastanza scura intorno e questo spicca particolarmente. Andiamo a vedere i livelli di noise se ci dicono qualcosina di più sulla nostra immagine. Come potete vedere questo sito Forensicali Beta ha un sacco di strumenti che possiamo utilizzare per questo scopo quindi possiamo andare a scegliere lo strumento che è più adatto per noi. Vedete che nelle aree chiare che sono state modificate poco abbiamo una grande uniformità mentre appena andiamo su un'area che è stata lavorata abbiamo una situazione di tutt'altro tipo. Di nuovo questa qui è la giacca che non è stata modificata e queste sono altre fiamme. Vedete che abbiamo una situazione completamente diversa. Andiamo a vedere il level sweep che cosa ci fa vedere. Qui possiamo vedere abbastanza chiaramente quelle che sono le aree dove sono state applicate delle modifiche di colore. Io probabilmente ho applicato un filtro per colorare solamente le parti chiare dell'immagine perché volevo dare una colorazione al bagliore delle fiamme quindi solamente sulle alte luci. Quindi di nuovo questo strumento cerca di capire che cosa è stato fatto e direi che ci azzecca abbastanza. Gradiente di luminanza. Andiamo un po' a vedere che cosa ci dice questo strumento. Beh in questo caso direi molto poco. Qui abbiamo dei pezzi che si vedono in rilievo che quindi vengono molto fuori e che sono chiaramente dei segnali che l'immagine è stata toccata. Qui abbiamo eh sì effettivamente vedete questi sono i lapilli e le scintille che vengono molto fuori rispetto al resto dell'immagine. Vengono più fuori questi rispetto a cose che c'erano veramente nell'immagine come per esempio il bavero della giacca. Quindi evidentemente anche questo ci dà un'idea. Vediamo che cosa succede se modifichiamo l'intensità. Sì qui l'ha aumentata un pochettino dappertutto. Non è attendibilissimo su questo tipo di immagine però è comunque uno strumento che ci dà una lettura di qualche tipo. Analisi dei componenti principali e vi dirò che questa è la parte che mi ha sorpreso maggiormente. Allora adesso noi siamo in modalità colore e andremo a vedere la differenza. Io adesso vi mostro la differenza e vedete che cosa succede. In questo momento l'immagine è completamente sfarinata. Però guardate che cosa succede se aumento a due le componenti. Come potete vedere l'immagine si è trasformata in un monocromo mantenendo il colore solamente nelle aree che sono state modificate. Quindi possiamo vedere molto chiaramente che le fiamme sono state aggiunte. Io ve lo posso confermare perché l'ho fatto con le mie mani. Questa è una fotografia dove fondamentalmente abbiamo aggiunto le fiamme e i lapilli e vedete che questo strumento lo capisce perfettamente. Bene amici eccoci tornati in studio. Come avete potuto vedere si tratta di un metodo non infallibile. Ci vuole anche un po' di perizia nel leggerlo perché non è che ti dice questa è finta questa è vera. Bisogna andare a esaminarla e cercare di capire se ci sono dei pixel che sono stati manomessi e di solito si vede. Quindi nella maggior parte dei casi è abbastanza impietoso lo strumento nel senso che si vede se ci sono delle modifiche grosse. Magari delle modifiche piccole non si notano e delle modifiche fatte bene sono meno visibili piuttosto che modifiche fatte male. Dei cambiamenti piccoli possono passare inosservati. Ovviamente dei cambiamenti grossi si notano. Se per esempio avessimo alterato completamente la fisicità di una persona secondo me sarebbe assolutamente evidente. Se avessimo aggiunto delle cose che non c'erano sarebbe assolutamente evidente. Quindi sono strumenti secondo me validi oltretutto gratuiti quindi possiamo utilizzarli per sbugiardare chi ci manda fotografie assolutamente poco realistiche. Ricordiamoci sempre di usare comunque questi strumenti con un po' di zucca nel senso che adesso non è che dobbiamo metterci a usarlo su tutte le foto che ci vengono mandate per far fare brutta figura alle persone. La maggior parte delle fotografie che vediamo sui social sono finte, sono taroccate, sono ritoccate e sono piene di cose che servono a venderci qualcosa e quindi non sono assolutamente realistiche. Ma non è questo un buon motivo per andare a sbugiardare tutti quanti. Diventerebbe un mondo impossibile. Quindi usiamolo quando ce n'è veramente bisogno. Usiamolo per studiare magari. Usiamolo per capire come è stata fatta un'immagine, come è stata assemblata perché riusciamo anche andare a vedere magari dove sono i punti di giuntura tra una parte e un'altra dell'immagine. Quindi per quello è un ottimo strumento. Ci aiuta a capire come sono state fatte le cose. Da quel punto di vista sicuramente è uno strumento impagabile e ripeto è assolutamente gratuito. Quindi vi lascio i link di entrambi gli strumenti in descrizione. Andateveli a scoprire, giocateci, fate quello che volete e fatemi sapere come vi siete trovati. Vi aspetto nei commenti. Fatemi sapere anche se vi è mai capitato di trovarvi di fronte a un'immagine che secondo voi era palesemente finta ma non eravate riusciti a dimostrarlo. Adesso con questo strumento magari in retrospettiva potreste riuscire a provare che avevate ragione. A questo punto vi ricordo per chi non l'avesse ancora fatto e guardate che siete tanti, che guardate i miei contenuti e non siete ancora iscritti. Vi ricordo che se questi argomenti vi interessano potete iscrivervi subito cliccando il bottone qui sotto e se attivate anche la campanella vi assicurate anche di non perderveli quando escono. Amici è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.